Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A15 segnalati due chilometri di coda per traffico intenso nel tratto compreso tra lo svincolo di Aulla e l'allacciamento per la A12 in direzione La Spezia. In A11 ripristino di un incidente tra Capannori e l'allacciamento A12 Lucca in direzione Pisa. In A12 controllo della velocità tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta e San Casciano Nord e tra Badesse e Monte Rigioni in direzione Firenze. Sulla statale 70 della Consuma tratto chiuso per lavori all'incrocio di Borgo alla Collina in entrambe le direzioni deviazioni sul posto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!